la luna piena e le energie dell'equinozio il consiglio arturiano 9d di daniel scranton voce e traduzione aura quinta dimensione letture saluti siamo il consiglio arturiano siamo lieti di entrare in contatto con tutti voi siamo molto entusiasti di vedere cosa farete con le meravigliose energie che stanno arrivando a voi per la luna piena e l'equinozio imminenti hai veramente un terreno fertile su cui crescere e per diventare l'essere che saresti dovuto diventare sempre in questa vita quelli di voi che sono svegli sanno che c'è molto di più il loro ed è davvero il tuo lavoro andare avanti e scoprire chi e cosa sei veramente attraverso l'esperienza le energie che entrano sono lì per supportarti nella tua esplorazione quindi più sei disposto a esplorare più energia spendi più tendi a ricevere aiuta anche quando stai facendo qualcosa che ami perché quando sei perso nelle tue attività del momento tendi a essere gioioso e più aperto mentre ricevi le energie della luna piena e dell'equinozio ricorda che sono lì per sostenerti per darti più vitalità e sono anche lì per te una cosa con cui co-creare in questo momento è un punto cruciale nella storia umana poiché hai l'opportunità di guardare intorno al mondo e vedere come oggi e vedere anche cosa vorresti fare di diverso i cambiamenti che vuoi vedere là fuori inizieranno sempre con te hanno sempre fatto e sempre lo faranno quando hai un gruppo di esseri incarnati sul pianeta che chiamiamo il collettivo risvegliato e hai più aiutanti in essere collettivi come noi allora hai davvero una potente combinazione metti quell'energia in movimento in parole in azione e in pensiero creativo e sappi che ad un certo punto si manifesterà tutto nella tua realtà hai fatto così tanto per i tuoi simili e continuerai a ricevere il supporto di cui hai bisogno per fare sempre di più e per essere sempre di più sei sveglio e questa è una responsabilità perché sai quanto puoi fare con il potere dentro di te e sai quanto sei potente come guaritore come insegnante come guida per gli altri raccomandiamo inoltre di fare i passi necessari per radicare le energie della luna piena e dell'equinozio sii presente radicato idratati e trascorri del tempo ogni giorno concentrandoti su come puoi aprirti ed essere il condotto verso ciò che è ad alta frequenza ciò che sta arrivando ciò che è stato messo a disposizione per te e per tutti i tuoi simili in questo momento e ancorerai quelle energie e il mondo intero trarrà beneficio dai pochi minuti che dedichi alla tua giornata per essere il canale di ciò che è ad altra frequenza ciò che sei tu nella tua forma più vera siamo il consiglio arturiano e ci è piaciuto connetterci con voi